Disponisci ai elementi principali. Io faccio recuperare il tempo, mi alzo e tanto ringrazio l'assessore perché ha fatto un quadro già preciso e mi soffermo su un termine che è quello che a me ha fatto arrabbiare quando dopo la buona scuola, il dialogo fatto durante tutti i mesi, c'è arrivato il testo riuscito dal governo intitolato riforma del sistema, non è una riforma, il titolo è il pagliato ed è quello che io contesto. Non è una riforma e non è una rivoluzione ma soprattutto non è una riforma, questo ci tengo a dirlo. Perché? Perché ha detto bene l'assessore, noi avevamo un obiettivo ed era l'obiettivo del centro-sinistra, è l'obiettivo inutile che ci vengano a dire, vi siete presentati alle lezioni con un altro programma sulla scuola. Noi dicevamo vogliamo l'organico funzionale e vogliamo la scuola dell'autonomia. Che era quel disegno, quel progetto di scuola che avevamo cercato di costruire nei tempi di Berlicola. Le norme sull'autonomia, il dirigente lo sa benissimo, ci sono dal 1999 poi 2000, non sono quasi mai state attuate perché mancavano le risorse. Quindi l'obiettivo era quello di dire, volendo dare gambe alla scuola dell'autonomia, mettiamo finalmente le risorse. Per fare l'autonomia ci vogliono due tipi di risorse, materiali e umane. Quelle materiali abbiamo iniziato a metterle all'interno della legge di stabilità quando era già in programma il progetto La Buona Scuola perché abbiamo raddoppiato il fondo per il funzionamento delle scuole che era un fondo già tagliato, ridotto all'osso. Per noi per la prima volta ci abbiamo rimesso dei soldi raddoppiandolo e nello stesso tempo però abbiamo deciso di investire sulle risorse umane che sono quel progetto di assunzioni che non sono l'obiettivo della Buona Scuola però per quanto sulle assunzioni si sia concentrato tutto il dibattito e per quanto per il problema delle assunzioni si sia scelto in pianta da qua. Ma non è questo l'obiettivo della Buona Scuola. Le assunzioni sono funzionali a dare vita a quelle norme, a quelle regole che per noi sono importanti a dare vita alla Scuola dell'Autonomia. Tanto che noi non ci siamo posti il problema di chi assumiamo. Era già normato per noi chi doveva assumere. Quelli che avevano il titolo per poter essere assunti. Quelli del graduatorio ad esaurimento. Chi c'è lì dentro, e sotto questo nome graduatorio ad esaurimento ci sono coloro che possono essere assunti perché hanno tutti i requisiti. Quelli che o hanno superato un concorso, quelli che hanno superato un percorso che aveva valore di natura concursuale o quelli che una sentenza ha messo lì dentro. Quindi quelli hanno un diritto. Bravi, cattivi, belli, brutti. Non era un problema che noi potevamo affrontare. Questo è uno dei miei eventi per cui oggi qualcuno del PD non ha votato e qualcuno del PD ha votato. Diciamo, perché racconto quel modello di assunzione. Ma noi diciamo, se siamo contrari alle graduatorie e se diciamo che vogliamo mettere per una volta la parola fine, una bella croce sopra il problema del precariato, e guardate, dire di risolvere il precariato non significa ammazzare i precari, come ci dicono, ma significa cercare di mettere ordine, cominciare a mettere ordine, da qualche parte devi iniziare e inizi laddove tu hai la possibilità di assumere. Quelli che hanno quel diritto, nello stesso tempo però noi abbiamo detto, sistemiamo anche dall'altra parte, quelli che non hanno quel diritto ma hanno un'abilitazione. perché io ricordo che dal 1999 al 2012 l'Italia, i governi italiani non hanno bandito concorsi, quindi noi avevamo gente che si laureava, la scuola che aveva bisogno di quelle risorse e gente che però non poteva entrare in ruolo perché non venivano fatti concorsi. E gente a cui non era persino stato detto, no ti chiudiamo i corsi per poterti amilitare. Allora, noi abbiamo dato uno sguardo anche a quelli, abbiamo guardato qual è il fabbisogno, abbiamo detto benissimo, riusciamo a partire dal prossimo anno anche ad assumerne altre 60.000, ma con concorso. Stabiliremo poi quale modalità di concorso fare, io sono fermataria di un ordine del giorno che è stato approvato e che dice inutile che andiamo a riverificare i pass che sono in classe da un sacco di anni sulle conoscenze. Cioè questi sono certificati, che ce li hanno, hanno già superato delle prove che purtroppo non avevano quel tipo di valore. Allora verifichiamoli su una prova pratica, su prove che dimostrano che in classe ci sanno stare, che poi è il vero problema, perché uno può essere l'insegnante più preparato del mondo ma poi non essere in grado di trasmettere il sapere agli studenti. Quindi questo è un problema per cui noi abbiamo cercato di sistemare anche quello. E stiamo ragionando anche sulla cosiddetta fase transitoria, cioè quelli che non sono neppure abilitati e che pertanto non potranno accedere al concorso e su come si diventerà insegnante in futuro, che è materia di legge delega. Io qua me la vedo, scusate, ma ho fatto un anno e mezzo di passione, almeno una cosa che il governo ha acquisito, è la mia proposta di legge su come si diventerà insegnante in futuro, che è entrata in legge delega e quindi quello sarà il modello. Cioè, mentre oggi per diventare insegnante tu pagavi, perché dovevi pagare l'abilitazione, noi diciamo, se vuoi diventare insegnante ti paga lo Stato. Ti mettiamo una bella barriera dopo la laurea, che è una laurea, quella che vuoi, di lettere in filosofia specialistica, quell'indirizzo che vuoi, in cui metti dentro dei bei crediti però formativi che hanno un indirizzo metodologico e didattico, e poi supererai, devi superare, un test super selettivo, motivazionale, di conoscenza per poter accedere a quella fase successiva. E la fase successiva è pagata dallo Stato. Perché tu insegnante, che non sei ancora insegnante, ma che vuoi diventarlo, avrai un anno all'università, all'ulteriore, e gli altri due anni a scuola, perché la formazione, imparare, diventare insegnante, si impara a scuola, con tutto il rispetto per le università. Ma si impara a scuola, quindi attraverso le scuole, attraverso i percorsi con docenti senior che hanno esperienza, che sono docenti magari anche formatori, perché la nostra scuola ha un patrimonio umano notevole e ricchissimo, che non può essere utilizzato, perché noi fino ad oggi siamo stati vincolati, grazie alla riforma Germini, alle ore in classe, direzione frontale. Punto, l'insegnante veniva usato per quello. Tutto il resto era, possiamo dire, manodopera gratuita, perché il fondo di istituto è tagliato, la possibilità scarsissima di pagare i progetti, o c'è un'amministrazione che ci mette dentro qualche soldino, con il piano del diritto allo studio, per finanziarne, o altrimenti gli insegnanti con buona volontà fanno le cose, tipo una volta sbagliata. Questa cosa noi diciamo non ci va bene. Allora, raddoppiamo il fondo di istituto, quindi più risorse, e in più noi paghiamo il cosiddetto organico aggiuntivo, perché questi insegnanti non sono gli insegnanti semplicemente che ci servono per coprire le cattedre, ma sono gli insegnanti che ci servono per creare quell'organico di potenziamento, cioè per consentire alla scuola di svilupparsi in tutto il suo essere, nei suoi progetti, con le sue belle energie, con quelle che sono le necessità del territorio in cui è inserita. Questa è la scuola dell'autonomia, sinergia. Per fare questo ogni scuola, la dirigente lo sa, loro sono stati chiamati poco prima della fine di giugno ad una bella riunione con il direttore dell'ufficio scolastico regionale che ha detto, la legge non c'è ancora, però dateci un'indicazione di che cosa avete bisogno, chiedetelo ai collegi docenti. Molti collegi docenti si sono posti, perché c'è una battaglia contro la buona scuola, e si sono posti, permettetemi lo dico dall'insegnante e lo dico da militante di un sindacato, si sono posti in maniera un po' miope, perché il poter dire qual è la filosofia della scuola e quindi che cosa voglio andare a potenziare, seppur in maniera, a livello di consultazione, è uno strumento utile per far arricchire quella scuola di risorse umane. Per cui la battaglia miope non porta frutti, ed è una battaglia miope che spesso, e vi dispiace di dirlo, è stata fatta senza saperne nel dettaglio i contenuti, che si è visto dagli slogan che sono stati utilizzati. Noi cercheremo di dare alle scuole circa l'8% in più di docenti, 8% in più ad ogni istituzione scolastica, diceva bene prima l'assessore, anche con una certa verticalizzazione, il dirigente scolastico oggi di un comprensivo, quindi parlo della primaria, di infanzia primaria, che io continuo a chiamarle medie, scuola secondaria inferiore, dovrebbe poter gestire tutto quello organico, unico, e utilizzare tutte quelle risorse. Qui è scopiata la polemica perché hanno detto, ecco, volete far insegnare i prof di musica alle elementari, sì, affiancati dall'insegnante della scuola elementare, perché in questo modo nella scuola primaria non riusciamo a rintrodurre le compresenze, perché abbiamo un insegnante che ha abilitato all'insegnamento per quella fascia d'età, e abbiamo uno specialista. Dov'è il problema? Dov'è lo scandalo? Non togliamo a nessuno lo stipendio, non abbassiamo i livelli e diamo un'offerta ulteriore. E insegniamo alle scuole a lavorare insieme, i comprensivi come comprensivi, ma anche alle scuole, e qui davvero l'assessore dimostra anche il testersene, in rete, contaminazione tra le scuole, patrimonio scolastico, è patrimonio comune. E qui il punto dolente, perché per fare questo c'è bisogno di due cose, gli albi territoriali, bruttissimo nome, ma si chiamano così, che sono propedeutici alla rete di scuole, e il fatto che io possa scegliere la figura professionale di cui ho bisogno, che è stata declinata come slogan dalla cosiddetta, cosiddetto slogan, preside sceriffo. Allora, noi non vogliamo presti sceriffi e non vogliamo la chiamata diretta. La prea, e questo nome è risuonato anche oggi in aula, aveva in mente la chiamata diretta, che significa, io ho dirigente scolastico, anzi ne abbiamo una qua, c'è un elenco, prima, seconda, terza fascia, chiunque, scelgo chi voglio io. Questa è chiamata diretta, è chiamata diretta anche per, in qualsiasi ambito di lavoro, io chiamo in maniera discrezionale. Noi diciamo un'altra cosa nella buona scuola, che è scritta nero su bianco, non è l'interpretazione della malpensi, c'è scritto così, andatevi a vedere gli articoli, un po' noiosi, ma c'è scritto così, che il dirigente scolastico, in un elenco, cioè quello della rete, dell'aulo territoriale, di gente assunta e tutta in ruolo, cui nessuno toglie lo stipendio, con un contratto. Grazie.